amici dei noir dove siamo oggi siamo a tenuta san liberato sul lago di bracciano giornata impegnativa perché poche ore fa eravamo a capri ma come al solito siamo arrivati in tempo per fare tutto e siamo per il solito giro per sentire i suoni e i volumi se sono giusti vi faccio fare un giro per la villa chissà chissà Grazie a tutti Scopriare, scopriare, amore, amore, sperato Scopriare, scopriare, amore, sperato Scopriare, scopriare, amore, sperato